Un gruppo di studenti australiani del Diamond Valley College ha visitato nei giorni scorsi il Campo 78, un sito storico che testimonia gli eventi bellici che hanno segnato il territorio di Sulmona. Gli studenti ospiti della città hanno avuto l'opportunità di immergersi in un capitolo significativo della storia locale grazie all'iniziativa promossa dal Comune. La visita è stata coordinata da Cinzia Curini, originaria di Sulmona, che ha accompagnato i giovani insieme a figure istituzionali come il sindaco Giafranco Di Piero, la consigliera Antonella Lagatta e l'assessore al turismo Elio Accardo. A guidare il gruppo attraverso i sentieri della memoria è stato Carmine Di Benedetto, che ha illustrato l'ex campo di prigionia con dettagli e aneddoti che hanno catturato l'attenzione dei visitatori. Il Comune di Sulmona ha contribuito all'evento mettendo a disposizione la navetta turistica, facilitando così l'accesso al sito. I ragazzi australiani hanno espresso grande entusiasmo e attenzione durante la visita, apprezzando la possibilità di conoscere storie e luoghi che rappresentano un legame profondo tra il passato e il presente. Questo incontro culturale non solo ha permesso agli studenti di Melbourne di esplorare le radici storiche di Sulmona, ma ha anche rafforzato i legami internazionali, dimostrando come la storia possa essere veicolo di connessione e comprensione reciproca tra nazioni diverse. Il Campo 78 continua a così essere un luogo di apprendimento e riflessione, un punto di incontro dove le generazioni future possono apprendere le lezioni del passato per costruire un futuro di pace e collaborazione internazionale. La scuola superiore Diamond Valley College di Melbourne, grazie alla coordinatrice di origini sulmonesi Cinzia Curini, ha inserito Sulmona all'interno dell'Italy Studi Tour, un lungo viaggio di istruzione che toccherà le classiche mete di Roma, Pompei, Firenze e Venezia, riprendendo una tradizione che si era interrotta con la pandemia. La scuola superiore